Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Firenze un chilometro di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Su raccordo autostrale Siena-Firenze per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggimozi e Tavarnelle. Sulla statale 223 di Paganico resta chiuso il tratto all'altezza di Campagnatico a causa di uno smottamento avvenuto nei giorni scorsi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.